Di Lulu Selassie se ne sta parlando moltissimo, soprattutto per i presunti problemi che ci sarebbero ancora con la famiglia di Manuel Bortuzzo e soprattutto col papà di lui, Franco Ma ora sono emerse altre situazioni tutt'altro che piacevoli e che hanno coinvolto anche la sorella Jessica Selassie Una voce sempre più insistente ha fatto riferimento a qualcosa di inaspettato, che avrebbe cambiato in peggio i rapporti tra le due princess Ma poi si è scoperta praticamente la verità dei fatti Prima di parlarvi di Lulu Selassie e Jessica Selassie, la prima anche se in maniera diplomatica, ha lasciato capire che qualche problema c'è Queste le parole della princess, per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce Sono molto vera, non riesco a fingere Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno Ma da parte del giovane c'è ancora silenzio Lulu Selassie e Jessica Selassie, voci sul loro litigio A rivelare qualcosa di clamoroso che avrebbe coinvolto Lulu Selassie e Jessica Selassie è stata Deyanira Marzano attraverso i social, anzi Per la precisione è stata una sua fonte che è voluta rimanere anonima ad aver comunicato che ci sarebbero stati problemi tra le due tipi Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere, mentre offendeva Jessica, e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre E Deyanira ha detto la sua Quindi, ci sarebbe stata una lite tra Lulu e Jessica, che però non è stata confermata ufficialmente Deyanira Marzano si è limitata ad aggiungere Questa ragazza non è un fake, sottolineando quindi che si tratterebbe di una fonte affidabile Ma poi è success qualcosa che ha fatto ipotizzare che ormai i rapporti tra le due sorelle siano ora perfetti Infatti, in un video pubblicato da Giacomo Urtis, è stato possibile vedere il chirurgo dei VIP in compagnia di entrambe, mentre si divertono e ballano Sotto il filmato di Urtis, questi commenti degli utenti, diamo tutte e tre, Giacomo Urtis con Lulu e Jessica Selassie, il trio di cui avevo bisogno per cominciare la giornata, wow, qui vi siete superati, siete adorabili In questa circostanza i protagonisti sembravano molto felici e non c'è mai stato un minimo dubbio che le due sorelle fossero in contrasto Ma ovviamente se ne saprà di più prossimamente Grazie